Con una chioma di vero lapislazzoli, le cui braccia superano lo splendore dell'oro, le cui dita sono come bocci di loto, lei che ha pesante le reni, strettele anche, le cui gambe nascondono la bellezza, ecco la sensualità. Oggi sono in compagnia di Giorgio Venturini, autore del romanzo Il cielo è un migliaio di stelle, edito da Mursia. Ciao Giorgio e benvenuto sul canale. Ciao, ciao Paolo, grazie. Iniziamo con chi è Giorgio? Allora, dal punto di vista personale, Giorgio è un pensionato, un pensionato 75enne, che non ha più un'attività lavorativa, la sua attività lavorativa è stata un'attività nell'ambito della nautica a vela e poi finalmente, oggi che non posso non lavorare più, posso dedicarmi a tempo pieno a quella che è stata la mia grande passione da una cinquantina d'anni, che è lo studio della cultura e della lingua dell'antico Egitto. Da dove nasce la tua passione per l'Egitto? Allora, io sono sempre stato appassionato di storia, aiutato da mio padre, che era anche lui un grande appassionato di storia, e guarda caso anche di mare. Io da giovane ebbi una grandissima infatuazione per la civiltà classica, anche a scuola il mio interesse era per la storia e nella civiltà classica primeggiava ovviamente la Grecia. Col passare degli anni si è un pochino attenuata il mio innamoramento per la civiltà greca, perché c'era qualcosa che non funzionava, quando si parla di una democrazia, la nascita della democrazia, si è vero, ma è vero fino a un certo punto. Io preferisco chiamare la civiltà greca una civiltà di oligarchia assembleare. La gran parte dei greci non avevano diritti, ma soprattutto i diritti mancavano all'altra metà del cielo, cioè alle donne greche. Mi sono spostato su una civiltà da noi poco conosciuta e studiata, che è la civiltà egizia, e immediatamente mi sono trovato a mio agio, quando ho scoperto come la civiltà egizia avesse in grandissimo interesse il mondo femminile. La donna nell'antico Egitto era rispettata già a 3000 anni prima di Cristo, era giuridicamente aveva gli stessi diritti dati all'uomo e una civiltà che rispetto all'Egitto per carità era assolutamente autocratica, ma ci sono poi motivi perché dovesse necessariamente essere autocratica. una civiltà così antica e dal punto di vista sociale aveva delle grandissime protezioni, cosa che la gente non conosce perché la scuola da noi trascura completamente l'insegnamento dell'antico Egitto. I nostri stessi insegnanti non sanno nulla dell'antico Egitto. L'antico Egitto era una società solidale, tendenzialmente pacifica, tollerante, aveva una grande ricchezza che veniva distribuita in modo abbastanza equo in tutte le classi sociali. Ho letto che il tuo romanzo è ispirato ad una storia vera, di che si tratta? Allora, c'è una premessa da fare. L'antico Egitto dura praticamente 2500 anni, anche perché negli ultimi 500 anni della sua storia l'Egitto non è più indipendente e comunque sia incomincio a essere intaccato e cambiato da altre civiltà che si impossessano politicamente del paese. Ma in questi 2500 anni in cui l'Egitto fu una delle potenze dominanti nell'ambito del Medio Oriente, quello che noi oggi chiamiamo Medio Oriente, in questo periodo l'Egitto aveva rapporti diplomatici molto forti con il mondo mesopotamico. Spesso questi rapporti erano anche conflittuali, però ci sono anche lunghissime pause nelle quali il rapporto fra i regni mesopotamici e l'Egitto erano di alleanza ed amicizia. Una delle caratteristiche di questi rapporti diplomatici è che i principi stranieri, come li chiamavano gli antichi egiziani, i re e i principi stranieri facevano la gara per mandare delle giovani principesse a diventare concubine o comunque regine secondarie nell'arem del faraone. La donna in Egitto era troppo importante perché si potesse pensare di prendere una principessa e mandarla magari contro la sua volontà, semplicemente in dono a un altro sovrano. Questa cosa tra l'altro non era sempre apprezzata, abbiamo delle corrispondenze da parte di re Mitanni e di re Titi che si lamentano col faraone, che dicono ti ho continuamente chiesto una tua figlia, la sposerei, diventerebbe una regina presso di noi e tu non mi hai neanche risposto. Sì, neppure gli rispondevano i faraone nella corrispondenza diplomatica, accettavano le principesse e non ne mandavano di loro. A un certo punto negli scavi della città di Akhetaton, nell'attuale Tela Lamarna, viene trovata la corrispondenza diplomatica di un periodo di 40-50 anni, verso la metà del XIV secolo a.C., 1350 a cavallo di questa epoca. In questa corrispondenza diplomatica si trovano due lettere che sono scritte al re Ittita Superuliumash, dalla regina egiziana Ankezenamon. Ankezenamon è la vedova del famosissimo faraone Tutankamon, giovanissima lei, giovanissimo lui. Quando lui muore, lei si trova in una situazione particolare, è vedova e sa che dovrà sposare il successore, perché non ci sono eredi maschi della loro coppia, per cui il diritto al trono per il successore deve passare attraverso il matrimonio con la regina, con la moglie di Tutankamon, la quale ha in sé, per via matrilineare, ha in sé la legittimazione del successore. Queste lettere sono veramente sconvolgenti, perché di fatto sono dei reati per quello che era l'antico mondo egizio. La regina scrive al re Ittita Superuliumash dicendo:"Il faraone, mio marito è morto, io non ho figli maschi, so che tu hai una folta discendenza, bene, mandami uno dei tuoi figli, io lo sposerò e lui diventerà farone d'Egitto. Io non voglio sposare un mio". E qui il termine è un mio suddito, in realtà va inteso in un modo diverso, non è che questa regina avesse in odio gli antichi egiziani, ma questa missiva, così strana, così stravolgente, indica che probabilmente a corte si era deciso di farla sposare a qualcuno che a lei era in viso. Cosa succede? Succede che c'è una seconda missiva nella quale anche Zenamon scrive nervosa, irritata ancora al re Ittita dicendogli:"Perché non mi hai creduto? perché pensi che io abbia voluto ingannarti? Tu sei venuto, hai mandato qualcuno a corte a verificare la veridicità della mia missiva e adesso deciditi, mandami questo tuo figlio e lui diventerà faraone". Il contenuto di queste missive è esplosivo, come ho detto, rappresentano una rottura con tutta quella che è la tradizione egiziana. Gli egiziani erano tolleranti, ma i popoli stranieri non erano egizi, potevano venire, lavoravano, venivano accolti in Egitto, ma alla fine erano immigrati che trovavano spesso delle grandi carriere, alcuni di loro diventarono anche grandi funzionari a corte, ma però sempre stranieri. Nella corrispondenza ufficiale il re Ittita, il re Mitanno e il faraone si chiamavano fratello, si riempivano dei complimenti, ma quando si chiudeva il microfono del messaggio, tra di loro il faraone e i suoi ministri parlavano del vile asiatico, cioè non erano considerati alla strego degli antichi egiziani. per cui il contenuto di queste lettere mi hanno fatto immaginare, cosa peraltro condivisa da altri studiosi, ovviamente storici dell'antico Egizio, mi hanno fatto immaginare una vicenda che è una vicenda che a quel punto deve coprire la grande rivoluzione religiosa e politica che fu fatta dai genitori di Tutankhamon, Akhenaton e sua moglie Nefertiti, appoggiati dalla grande regina madre, che è poi nonna di Tutankhamon, che era la regina Ti. Questa triade egiziana fece una scelta formidabile perché era una ribellione religiosa contro lo strapotere del clero tebano del dio Amon. Questo strapotere che aveva reso questo clero ricco quasi alla pari come la corona, incominciava a volere influire in modo molto invasivo sulla politica egiziana, addirittura volendo determinare la successione al trono. Per cui nacque questa ribellione, il faraone abbandonò Tebe, fece costruire una capitale 150 km più a nord, nella piana di Tela Lamarna e questa ribellione, questa rivoluzione durò semplicemente 17 anni, non di più perché poi con la morte di Tutankhamon fu fatta la restaurazione. Nell'ambito di questi 17-20 anni si svolge la storia del mio romanzo. Cosa ti ha spinto a pubblicare il tuo romanzo? Il romanzo è nato qui dove mi vedi, è nato in 17-18 mesi di lavoro a questo tavolo, con questo computer, esattamente questo. È stata un'esperienza per me, ho sempre avuto la capacità di scrivere fino ai tempi del liceo, è stata una mia prerogativa. Poi naturalmente la vicenda mi aveva veramente molto preso e io qui ho vissuto delle emozioni particolari. Infatti fai conto la scena molto cinematografica dello scrittore che tutte le volte che deve ricominciare qualche pagina, gli fuma la testa, a pallottola tutte le pagine iniziali, le butta per terra, il pavimento è coperto di pallottole di carta buttata, qualcosa di simile. Quello che posso dirti è che a un certo punto, quando finalmente partiva il bandolo di un nuovo episodio, di un nuovo capitolo, la forza della suggestione era tale che io avevo l'impressione di avere i miei protagonisti raccolti tutti quanti intorno a questo grande tavolo che ne può raccogliere fino a 14 e che la vicenda me la raccontassero loro. Devo dire una cosa, questa cosa mi ha veramente, lo ripeto, mi ha molto emozionato, ma mi ha emozionato ancora di più scoprire con studi successivi alla stesura del romanzo che molte delle mie impressioni, molte delle cose che avevo immaginato in questo strano modo, pensando che mi fosse suggerito dai protagonisti, avevano trovato riscontro in studi che non avevo ancora affrontato. Ci sono cose che io ho scritto attraverso l'intuizione, attraverso indizi ovviamente, ma per esempio come avvenne la morte di Tutankhamon, io non sapevo che uno dei grandi studiosi dell'antico Egitto, che è Zeudi Awas, il responsabile dell'antichità Egizia Egizia al Cairo, l'avesse descritta e la condividesse esattamente come l'avevo condivisa io, così come anche la diatriba per la successione al trono tra l'immediato successore che è Ai e il secondo successore che è il faraone Oremeb. Il fatto che tra loro fosse nato un accordo per una pacifica successione è qualcosa che io descrivo nel romanzo, addirittura coi dialoghi e me lo sono trovato poi in una monografia di Oremeb, di un grande studioso, egittologo. Questa cosa mi ha convinto di aver scritto qualcosa che avesse una forte valenza storica. Quasi tutti i personaggi nel mio romanzo hanno il nome, hanno la cronologia della loro vita e hanno le loro mansioni esattamente come le avevano 3500 anni fa. C'è qualcosa nella cultura antico egizia che merita di essere raccontata? Sono state scritte intere librerie, il problema è che noi in Italia, contrariamente a quello che succede per esempio in Germania o in Francia, noi in Italia non diamo molta importanza a scuola allo studio dell'antico Egitto. Questo dipende dal fatto che noi siamo molto romano centrici, greco romano centrici, per cui è come se il mondo antico Egitto cominciasse 700 anni prima di Cristo con Roma e poi da lì si sviluppasse tutto, quello che era successo prima contasse poco. Quindi dell'antico Egitto noi conosciamo soprattutto leggende oppure delle grandissime storture. Quello che la gente non sa per esempio è che la figura dello schiavo nell'antico Egitto è una figura quasi inesistente. Generalmente lo schiavo era un prigioniero di guerra al quale veniva dato immediatamente la possibilità di diventare uomo libero se accettava di entrare come soldato mercenario nell'esercito del Faraone. Poi in realtà c'erano i servi, c'era la classe dei servi, ma il servo come tutti i cittadini egiziani aveva un salario. Vediamo di definirlo in due parole. L'antico Egitto ha una caratteristica favorevole, è protetto dai suoi confini, è protetto dalla possibilità di invasioni straniere. Questo fa diventare la civiltà egizia fin dall'inizio una civiltà sostanzialmente pacifica. Ci si difende giusto dai predoni, da qualche tribù che sconfina per fare bottino, ma il pericolo di difendere veramente i confini non c'è. Caratteristica principale l'Egitto non ha un esercito egiziano, non ha un esercito nazionale. Ha un esercito che viene coscritto volta per volta nel momento in cui c'è necessità di qualche campagna militare, ma soprattutto gli egiziani non sono capaci, sono buoni contadini, non sono capaci di fare la guerra e quindi si prendono soldati mercenari. Al tempo stesso la caratteristica principale di un paese che vede ogni anno 4 mesi di inattività, perché dipende dalle piene del Nilo, 4 mesi di alluvione per cui l'Egitto è allagato, 4 mesi di lavoro nei campi per preparare raccolto, 4 mesi di estate raccolto e immagazzinamento. Quei 4 mesi di inattività totale, perché il paese è allagato, costituiscono un terribile problema sociale. In quei 4 mesi la gente primitiva non ha il concetto di accumulare beni per poter sopravvivere 4 mesi, per cui il potere diventa un potere che accentra il possesso delle terre e quindi i contadini che sono pagati, sono pochissimi i contadini che possiedono un fazzoletto di terra che sono indipendenti, sono dei contadini pagati e nei 4 mesi di inondazione dell'Egitto il loro salario se lo guadagnano lavorando le grande opere pubbliche. Per cui tutta la forza di lavoro che esiste in Egitto viene trasferita a fare le piramidi, a fare i templi, a scavare le tombe, a tutto quello, ma anche a scavare canali, a fare grandi opere idriche. Questo fa nascere una società estremamente articolata con una burocrazia che è onnipresente, un po' noiosa, ma veramente pedante e precisa, un sistema fiscale che è formidabile perché la raccolta delle tasse, in natura ovviamente, è quella che dà la possibilità di accumulare quelle riserve che serviranno a pagare mese per mese i prestatori di lavoro. È una società che un po' assomiglia a una società socialista, nel senso che chi non ha proprietà è un salariato, però attenzione, ha diritto ineludibile al suo salario. Noi non sappiamo, non ci viene raccontato che nel 1200 a.C. abbiamo il racconto degli scioperi per i ritardi nel pagamento del salario. È una cosa che non viene conosciuta, così come non viene conosciuto il diritto di famiglia egiziano e nessuno di noi sa quale fosse il fascino di una donna egiziana. Una donna egiziana è una donna libera, è una donna che sceglieva per amore il suo compagno e naturalmente meglio nelle classi più basse perché nelle classi alte la famiglia magari, come succede da noi, non accettava volentieri un fidanzato o un marito che fosse un povero salariato, quindi più libera le donne povere. Però di fatto la letteratura egizia è piena di racconti del rapporto fra l'uomo e la donna che è qualcosa di inimmaginabile. A un certo punto Giulio Cesare arriva in Egitto, arriva in Egitto per prenderselo l'Egitto e si trova di fronte a una regina che è greca di nascita ma di cultura è egizia. È una donna che ama il suo paese, ama l'indipendenza, usa tutte le arti della seduzione per ottenere da Cesare quello che lei vuole ottenere, cioè vuole ottenere che non diventi l'Egitto una provincia romana, ma un indipendente alleato di Roma. Qual è il fascino di una donna come Cleopatra che fa crollare prima Cesare e dopo la sua morte Antonio? Non è la bellezza, Cleopatra non è particolarmente bella. È disinibita quello sì, è una donna che per ottenere i suoi scopi usa anche il suo corpo, ma quello che travolge Cesare è che è una donna accolta. Cleopatra parlava sette lingue. Giulio Cesare arriva e le donne che conosce lui sono mogli quasi analfabete che stanno con le serve. nel mondo romano come nel mondo greco un uomo che volesse parlare, avere una conversazione un poco noiosa con una donna andava al bordello dove c'erano le prostitute, le etere che essendo libere leggevano, magari sapevano leggere e scrivere, erano donne di conversazione. E lui si trova di fronte a questa donna che lo travolge perché lui non conosce quell'universo femminile. Se la porta a Roma, se la porta a Roma. Lui aveva una moglie a Roma, chissà cosa ha raccontato alla moglie per mettere ospite in una sua residenza Cleopatra finché Cleopatra sta a Roma. Ma c'è questa cosa particolare. Perché la civiltà egizia dura alla fine 3.000 anni? Assorbendo gli invasori. Gli invasori arrivano e immediatamente diventano egizi loro. Il fatto di essere stata capace questa cultura di fare entrare l'universo femminile con la sua ricchezza, con la sua diversità nella formazione della cultura. Le donne egiziane avevano la possibilità di avere una loro vita indipendente, entravano nel matrimonio con il proprio patrimonio. In caso di divorzio, che poteva essere promosso anche da loro, uscivano dal matrimonio quel proprio patrimonio, ereditavano la patria potestà sui figli, ereditavano i beni. Questo è un unicum nel mondo antico. Abbiamo parlato di antico egizio, ora ti chiedo cosa ti aspetti dal futuro? Dal futuro dell'Egitto attuale o dal futuro mio? Dal tuo futuro. Sto scherzando. Ma sai, quando si ha la mia età il futuro è il giorno per giorno, io sono un uomo anziano, mi aspetto di… non scriverò un altro libro. Non scriverò un altro libro perché siccome il mio romanzo storico ed è per il 90% ancorato a fatti storici, non ho trovato qualcosa di così intrigante come la scoperta di quelle due lettere. Per cui potrei solo scrivere un altro libro sull'antico Egitto, un libro storico, ma ci sono studiosi molto più bravi di me che ne hanno scritti. Io ho una biblioteca di alcune centinaia di libri di gente che ha scritto prima di me cose che io andrei semplicemente o a scopiazzare o… per cui non c'è questo interesse. Mentre invece voglio dare tempo un po' del mio tempo al Museo Egizio, col quale ho già un rapporto di vicinanza e voglio, e questo per me è molto importante, riprendere l'insegnamento che ho dovuto sospendere per un anno all'Uniter di Arese. La città di Arese ha una università delle tre età, si chiama, che è incredibile. Arese non raggiunge 14.000 abitanti, ma la sua università delle tre età ha oltre 1.500 iscritti, decine di corsi e tra cui c'è il corso di egittologia che io ho fatto per molti anni, ho dovuto sospendere per un anno e che ripartirà da novembre con i miei allievi, con i quali il rapporto è veramente molto interessante. Quindi cercherò di condire con questa mia attività storica e didattica la mia pensione, il mio essere pensionato. Vogliamo dire da chi è edito il libro? Il libro è edito da Mursi, attenzione, il libro esce con un editore minore, Albatros, il filo, nel 2019. Ma nel 2021, nel dicembre del 2021, vengo contattato dall'editrice Mursia, la quale mi dice che gli interesserebbe editare il libro, mi invita a disdire il contratto, a non rinnovare il contratto editoriale col primo editore e dopo un anno di attesa, perché un libro già edito deve avere una seconda uscita dopo almeno un anno, quindi nel novembre del 2022 esce la seconda edizione con l'editore Mursia. Per salutarci ti chiedo di descrivere il tuo mondo attraverso due parole. Il mio mondo è mare ed Egitto. Pensa che la passione del mare la sono riuscito a inserirla nel mio libro. Uno dei 25 capitoli del libro è dedicato a una storia di traversata. E' una lunga navigazione nel Mediterraneo orientale, su una nave fenicia, con un equipaggio fenicio, con passeggeri egizi. E quindi c'è anche il racconto di come si navigava allora, di quelli che erano i miti, di quelle che erano le paure e le speranze che gli antichi fenici, che erano loro i navigatori, avevano nel mare Mediterraneo. Quindi sono riuscito a sposare un po' le due, mare ed Egitto. Ti ringrazio Giorgio per il tempo che mi hai dedicato e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno seguito fino adesso il video. E qualora dovesse piacere questo tipo di contenuti, li invitiamo appunto a iscriversi al canale per non perdersi gli altri. Grazie Giorgio. Va bene, ciao. Grazie a te. Grazie.